Sono qui per parlarvi del Maxxis 8000 PG, questo è un mulinello che a mio modesto parere ogni pescatore dalla barca dovrebbe avere a bordo. È un mulinello che si presta alle pesche più svariate ma anche alle pesche più impegnative, sono oggetti che nascono per una pesca volta alla cattura di grandi combattenti, possono essere utilizzati nello spinning, a tonni, a vertical. Il Maxxis 8000 PG è un mulinello che all'interno ha una serie di caratteristiche che lo rendono veramente insostituibile. Nonostante sia un prodotto che viene proposto al pubblico a un prezzo decisamente interessante, ha un Vanta, un Max Drag di ben 20 kg. Degli ingranaggi di acciaio inox, una frizione che alterna dischi in acciaio e in carbonio, chiaramente sovradimensionati, che conferiscono fluidità nella gestione del combattimento. E chiaramente con un Max Drag di 20 kg riescono a dare una certa sicurezza anche con i pesci più grossi. Il rapporto di questo piccolo gioiello è un 4 e 4, quindi riesce a recuperare intorno ai 96 cm per ogni giro di manovella. Per quel che riguarda la bobina è stata studiata e racchiude in sé una serie di caratteristiche che la rendono unica e insostituibile per questo oggetto. Un mulinello destinato alle pesche per il quale è nato il Maxis PG8000 è un mulinello che deve vantare una bobina con una capienza decisamente sostenuta, elevata, in grado di gestire al meglio una fuga o un combattimento impegnativo. Questo il Maxis PG8000 riesce a imbobinare 350 metri di cordino 18 libre, quindi possiamo star tranquilli che anche la più lunga delle fughe verrà gestita nel migliore dei modi. Sul rotore di questo oggetto troviamo una flangia in carbonio che è facilmente visibile anche. Questa alleggerisce ulteriormente il mulinello e gli conferisce una struttura ancora più solida e resistente. Una bobina forata che presenta un rivestimento di nitruro di titanio sulla parte superiore e chiaramente migliora le fasi di lancio poiché minimizza la trazione che il filo fa in fase di uscita, fluidifica molto il lancio. Il Maxis PG8000 viene presentato come un mulinello da combattimento e infatti è un mulinello da combattimento. È un vero e proprio argano che traduce in potenza ogni movimento, in pura potenza ogni movimento che viene trasmesso alla manovella. Un'impugnatura ergonomica ci permette un grip eccellente e istantaneo in ogni situazione di pesca. Parlando della struttura costitutiva di questo piccolo oggetto da combattimento, possiamo dire che il corpo è costruito con una lega metallica, mentre la manovella è una manovella in alluminio forgiata dal pieno alluminio CNC. La manovella, come potete vedere, è una manovella che è destinata a sopportare delle trazioni importanti. infatti deriva da una lavorazione di alluminio dal pieno.